A presto, a presto, a presto. A presto. A presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto. 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 perché ho scattato perché in realtà facevo questa qua portavo dentro avevi pochissimo no no per carità sì ma può rispondere sono stato io qui in là perché ho detto magari non li fatti inzzammiate io la cosa ho pescato però ma è adesso io qui in là non so proprio ma è giusto che la nostra roba non strosa no non strosa non strosa ma lo capo che mi sopra ci sono dai vi ho sbagliato prima dai vi ho sbagliato prima dai vi ho sbagliato prima dai come va a stare adesso dopo vi ho sbagliato prima dai mi sono scomitato perché la mano per penne si 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 ti ho fatto questa scelta tempo lo dice fondanti però se 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 grazie Quanti mail ci sono? Si dov'è? Comunque se no, ho visto una cosa di vista che mi ricavessi... Se ne ho fatti il mail? Si Potevo partire di... Mi incontano? Esatto Io l'ho passato per il gamma Dopo che fossi in mark, parmi il master, io avevo la trickster Se l'ho avessi dato una testazione, non ho fatto nessuna testa da ce l'ho Ecco, ora si è dato un altro Però mi piace aver perso quella roba lì così Penso che... Esatto Comunque se l'hai fatto la testa di lavoro lì? La vanno fatta? Si, ma... Proprio diciamo adesso Si, perchè io mandavo in un cellulare Facciamo un po' di tre misera con i pesi da lui Ma sopra quello di qua Stava Che gli diventavano un po' rispondere, lo flasciavo, lo spaccavo E poi diventavano... Non avevi più uno spot, diventavano un cellulare E... C'era quello Mi sarei visto tu giocare con i pesi feroci Gli utenti... Quindi, adesso... Non lo faccio? Sì Ne ho finito Sì Se è piccola Per la Dio Non lo riccola che varia un cellulare Vai Sì Ma non era un teletro, me stesso Ma non è un teletro Sì Sì Quanto tempo manca? 10 adesso, 10 minuti rimanendo. 5 minuti rimanendo. 5 minuti rimanendo.